La maggior parte degli uomini non capisce che quando la loro ragazza si raffredda, prende le distanze o addirittura decide di uscire dalla relazione, se la inseguono, la implorano in preda all'ansia e fanno di tutto pur di convincerla a tornare, non funzionerà mai. Ho visto questo tipo di situazione ripetersi tantissime volte nel corso degli anni. Uomini che pur di riavere indietro la loro fidanzata la chiamano di continuo, mandano centinaia di messaggi, cercano qualsiasi modo per recuperare finendo puntualmente per spaventarle e mandarle via per sempre. Molto probabilmente sei anche tu stato come loro, o forse ti comporti ancora così quando senti che c'è qualcosa che non va nella tua relazione. Ma come di sicuro sai, tutte le volte che insegui qualcosa, che vuoi qualcosa, in questo caso una persona, questa si allontanerà da te. E allora perché lo fai? Forse quello che non sai è che se sei tu quello che si allontana, lei tornerà da te, proprio come una calamita. Avere a che fare con una donna è esattamente come avere a che fare con un gatto. Quando lo rincorri o quando cerchi di trattenerlo, il gatto ti graffia. Lui vuole allontanarsi da te in difesa della sua libertà. Ma se tu invece ti allontani e lasci che sia lui a venire da te spontaneamente, verrà a sedersi sulle tue ginocchia, potrai accarezzarlo e sarà molto tranquillo. Questa è la stessa dinamica che devi usare con una donna. Esattamente uguale. Già le sento le tue parole. Ma quindi Giosuè mi stai dicendo che devo lasciarla andare e allontanarmi anche io? Esatto, sì. Ma se non dimostro che ci tengo la perderò per sempre. Ok, ok. Per prima cosa, cominci a metterti da subito nell'idea che se lei non vuole stare con te, l'hai già persa. È inutile che ci giriamo intorno, dai. Inoltre, se te ne vai, dimostra che sei un uomo forte e che sei in grado di vivere benissimo anche senza di lei. E questo è molto attraente per le donne. Questo comportamento, infatti, fa intendere anche che sei meno reattivo e meno bisognoso. E tutto ciò, a livello inconscio, comunica alla tua ex ragazza che sei indipendente e sicuro di te. Poi, lasciamelo dire per profonda esperienza, ma quella cosa di dimostrare che ci teniamo è una vera stronzata, eh? Anche perché se ti fai vedere che ci tieni, che sei presente, che provi a recuperare, il pensiero che verrà in mente a qualsiasi donna è Perché ci prova solo ora? Perché vuoi recuperare adesso che siamo in questo bagno di merda? Le donne non sono stupide. La parte interessante però arriva adesso. Questa, oltre ad essere una strategia di grande successo da utilizzare, insinua un po' di dubbio nella tua ex ragazza. E quando le donne non sono sicure di cosa sta succedendo, è molto più probabile che ritornino, che ti cerchino e che vogliano sapere in quale angolo della tua vita si trovano esattamente. Cioè, se l'hai dimenticata o se in qualche modo pensi ancora a lei. Vedi, è il tipico caso del gatto curioso. La tua ex vuole sapere cosa sta succedendo, ma soprattutto vuole saperlo perché non riesci a capire, perché ti stai allontanando quando qualsiasi altro ragazzo nella sua vita, davanti allo stesso comportamento, non ha fatto altro che supplicarla di tornare. Tutto ciò è molto potente e capirlo a fondo può davvero fare la differenza. Pensaci, se tutti i ragazzi che hai intorno si, ne ha, no, lei non è diversa, scordate. Se tutti i ragazzi che hai intorno la inseguono e cercano di stare con lei e tu sei l'unico che si allontana, questo dice molto su di te. Dice che sei molto più forte rispetto a loro. Anche se non è del tutto vero, ma questo lo sappiamo solo io e te. Ciò che conta è la percezione. E lei ti percepirà così proprio perché sei disposta ad andartene via. Come vedi a questo punto, la scelta è soltanto tua.